... Avanti, non mi sembra questa grande idea. No, può funzionare. Vedrai che troviamo qualcosa di decente. Ah, la rimettiamo in piedi in un secondo. È sincronizzato, ma risponde bene al segnale, vero? Non sento il corpo. È un modello base, ha solo vista e udito. Se vuole gli altri sensi, c'è un extra. Se poi preferisce vedere la sua faccia, quando si guarda allo specchio, non c'è problema. Una scansione della testa, un po' di termoplastica e in meno di un'ora lei è pronto a uscire. E i ritocchi estetici sono gratis. Fa piacere a tutti ringiovanire, diciamo di 5-10 anni. Che mi dice? Le dico che vado via. Criere.